musica mi sono scartato E' un po' metrote, ma... Chi si può credere? Guardi qua! Vai Pippo! 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 C'è uscita di quelle corpite, come che è? Quella con la cugnata di Italumere che ha fatto anche le pallette. Pippo! Per il tuo che la manchi il cuore! Grazie fratello! Fre! In inglese! Ciao! In italiano? Fre! Ovunque lo metterà anche al cimitero, vedrà anche i morti perché lo so! Guardi! Oh, ma non vengono a rire, no! No! Le cozze crudono, le pesce crudono, l'alice crudono! Noi sfondiamo le cabine all'umare che praticamente... Io ero esperto a sfondare la... Pure quelle le chiusure di cemento armato! Un calcio al centro, BOOM! E che lui leva la porta! Ma devo guardare l'obiettivo, no? Dai Pippo, dai! Guardi Pippo! LParker Centroam! Grande, grande! Vale, vale, vale L